Il mercato fa registrare un unico acquisto di rilievo. Il mercato è quello dell'esperto Romano Fogli, un jolly a cui Rocco farà spesso ricorso. Chiari gli obiettivi stagionali, conferma in campionato e conquista della Coppa dei Campioni. Sul fronte interno il Milan lotta fino alla fine per la vittoria insieme al Cagliari e alla Fiorentina. Ma il tricolore sfuma, nonostante una difesa impenetrabile, soltanto 12 le reti al passivo e le sole tre sconfitte subite. Si rifà alla grande la formazione rossonera in campo europeo, dopo sei anni da Wembley conquista la sua seconda Coppa dei Campioni. A Madrid il Milan travolge l'Ajax del giovane Cruyff per 4 a 1. Frati è l'eroe della serata con una tripletta, ma su tutti brilla la stella di Gianni Rivera che proprio nel 1969 riceve il pallone d'oro. Grazie. 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 Grazie.